Se dovessi racchiudere solo in una battuta quello che noi pensiamo di questo progetto di legge, dovrei dire che il sonno della Regione genera i comostri. Ovviamente andrò un po' più nel dettaglio rispetto a questa affermazione e voglio partire dal metodo con cui si è arrivati a questo momento qui in Consiglio regionale. In Commissione era stato istituito un gruppo di lavoro, ci sono state dieci sedute di questo gruppo di lavoro dal 6 febbraio al 3 giugno. C'era da valutare quattro testi sul tema, quello della Giunta, quello della Lega, il nostro e quello del PD. Abbiamo fatto un ampio giro di audizioni, abbiamo ascoltato tutte le persone che ce lo hanno richiesto. È stata data massima disponibilità da parte di tutti a condividere un testo unificato. È stato dato il mandato agli uffici della Giunta di redigere questo testo condiviso il 3 giugno, dopodiché non si è più saputo nulla. Buio totale per i noti dissidi della maggioranza che poi abbiamo conosciuto. Dopo l'estate viene annunciata la calendarizzazione in aula per l'11 novembre, per oggi, ma fino al 16 ottobre non si è saputo nulla di tutto questo. In quella data l'assessore Beccalossi annuncia in Commissione che ci verrà consegnato il testo unificato il 21 di ottobre, salvo poi ricevere effettivamente il testo il giorno 23. Quindi dal 23 di ottobre ad oggi si è dovuto fare tutto. Presentazione del testo in Commissione, discussione generale, secondo giro di audizioni, presentazione, discussione e votazione degli emendamenti, votazione finale in Commissione, approdo in aula. Il tutto in soli 20 giorni di calendario a fronte del provvedimento più importante in assoluto che siamo chiamati a votare in questa legislatura. Il tutto quindi facendo anche finta di voler coinvolgere le minoranze all'interno dell'iter di approvazione della legge. Il tutto con il benestare di un Presidente di Commissione che tutto è stato tranne che super partes e garante dei diritti di tutti i commissari e tutto ha fatto tranne che garantire il corretto funzionamento dei lavori di Commissione. Un Presidente che quando faceva comodo alla maggioranza a tirarla alla lunga dichiarava siamo al 10 luglio, devo dire che il Presidente Maroni ha capito in questo caso il provvedimento è molto delicato quindi la fretta non sarebbe foriera di buoni passaggi e di buoni presagi. Ha probabilmente anche capito che questo Presidente di Commissione alcuni passaggi che sono necessari all'interno della Commissione devono essere assolutamente evasi. Quindi non può arrivare un provvedimento quello che è e quello dobbiamo assolutamente portare in Consiglio che poi è esattamente quello che è successo. Parole del 10 luglio che sono state completamente disattese. Si è arrivati in Consiglio anche tramite il contingentamento dei tempi della discussione in Commissione e la votazione a blocchi degli amendamenti in Commissione stessa, cosa non prevista dal regolamento e che non era mai successa nell'ultimo quarto di secolo in questa assise. Quindi la disponibilità al confronto e al dialogo con lo che è stata sbandierata per 10 mesi di fatto si è rivelata solo di facciata, una presa per i frondelli ed è per questo che c'è stata la nostra reazione in Commissione. Azione, reazione, tutto qui. Noi ci siamo sentiti presi in giro e per quello abbiamo reagito nel modo in cui abbiamo fatto e stiamo facendo. Ora, questa era una premessa di metodo. Entriamo un po' nel merito e per entrare nel merito dobbiamo anche inquadrare un po' il problema, dobbiamo anche capire di cosa stiamo parlando. E anche qui per inquadrare il problema rubo le parole all'assessore Beccalossi che il 6 marzo è venuto in Commissione a dirci queste cose. Le analisi effettuate dagli uffici regionali hanno confermato la evidenza di una situazione critica che accomuna la Lombardia alle altre grandi regioni italiane. Il consumo di suolo cresce a ritmi elevati, l'agricoltura perde terreni fertili, le aree dismesse e il patrimonio inutilizzato degradano di fatto le nostre città, in particolare i centri storici, ma non solo. In Italia il consumo di suolo è cresciuto negli ultimi 5 anni a ritmo di 8 metri quadrati al secondo, pari a 340 metri quadrati per abitanti all'anno, corrispondenti nel 2010 oltre 20.500 km quadrati. In questo quadro spetta la Lombardia il primato per aver superato la soglia del 10% di suolo consumato. In Lombardia i due terzi dei comuni, quelli che hanno approvato il PCT a dicembre 2013, prevedono aree di potenziale trasformazione pari a 414 km quadrati, la maggior parte delle quali non sono inserite negli ambiti di trasformazione introdotti dalla legge 12 e spesso sono derivanti dalla riproposizione di aree di espansione non attuate nei vecchi PRG. In Lombardia lo sviluppo demografico potenziale, così come descritto nell'insieme delle previsioni abitative dei PGT comunali, appare tanto irrealistico da essere in numerosi casi insensato. Dagli anni 70 la superficie agricola utilizzata è diminuita del 28%, ovvero di una superficie equivalente a Lombardia, Liguria e Emilia Romagna messe insieme. La riduzione maggiore riguarda la superficie disseminativi e prati permanenti, ovvero i due ambiti da cui prevengono i principali prodotti di base dell'alimentazione degli italiani. Pane, pasta, riso, verdure, carne e latte. La continua perdita di terreno agricolo porta l'Italia a dipendere sempre di più dall'importazione. Su 29 milioni di abitazioni quasi 5 milioni risultano non occupate o sottoutilizzate. Solo a Milano sono 3 milioni e mezzo di metri cubi di edifici pubblici o privati non più in uso. E concludeva l'assessore dicendo che il tema del consumo del suolo non può essere governato semplicemente da disposizione di principio. Si rende necessario invece intervenire in maniera incisiva ed è esattamente quello che non è stato fatto con questo provvedimento. Di fronte ad una situazione emergenziale, così come l'abbiamo descritta con le parole dell'assessore Beccalossi, non si può pensare di intervenire con una legge di principio che detta la linea, che traccia una rotta per il futuro come è stato detto da alcuni colleghi in Commissione. Di fronte ad una situazione emergenziale si deve intervenire con un provvedimento altrettanto emergenziale, con un provvedimento radicale di stop al consumo di suolo e del territorio. Siamo quindi di fronte ad una situazione di gravità assoluta e questo testo invece è molto vago, se non inutile per certi versi dannoso. E la cosa peggiore è che non recepisce nessuna delle tante richieste, delle tante aspettative che si sono generate negli anni dal dibattito pubblico che si è sviluppato in Lombardia, non solo all'interno delle istituzioni. E quindi tradisce in qualche modo le attese di tanti cittadini e di tante realtà associative. Veniamo ai contenuti che noi critichiamo di questo testo. Innanzitutto dobbiamo sottolineare l'indeterminatezza dei meccanismi utilizzati per contenere il consumo di suolo. Questo testo non espone con chiarezza gli strumenti e le politiche utilizzate per limitare l'ulteriore occupazione di suoli liberi. La scelta, come già stato detto, è quella di rimandare ad un nuovo adeguamento del PTR, per cui al futuro il compito di stabilire sogli e criteri che successivamente province e comuni potranno considerare per l'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione. Quindi oggi non si prende sostanzialmente nessuna decisione vincolante perentoria. Poi c'è il totale mantenimento delle previsioni di espansione inserite nei PGT vigenti. Quindi all'interno dei PGT le previsioni di crescita del territorio urbanizzato e contestuale perdita di suoli naturali ammontano, stima più attuale rispetto a quello che ho citato prima, a 550 milioni di metri quadri, pari, giusto per avere un'idea, 86 mila campi di calcio. Il provvedimento non mette in espossione in alcun modo queste ingenti previsioni di consumo di suolo. E non vale neanche la pena dire, non vale dire che la Regione non poteva legalmente intervenire su queste previsioni, dato che c'è un parere degli uffici legislativi del Consiglio che io ho chiesto, che dice esattamente il contrario. Quindi si tratta di una scelta politica e ve ne dovete assumere la responsabilità politica fino in fondo, senza mascherarvi dietro al fatto di possibili ricorsi o cose di questo tipo. Non sono stati considerati minimamente meccanismi disincentivanti e compensativi, che spesso sono inverse nelle varie proposte di legge avanzate sia a livello regionale sia a livello nazionale. Un altro tema importante è che vengono concesse agevolazioni e ben tre anni di tempo per attuare le ingenti previsioni di crescita inserite nei piani di governo del territorio. I proprietari delle aree inserite nelle previsioni di espansione hanno disposizione ben tre anni di tempo per avviare presso gli uffici comunali le pratiche urbanistiche finalizzate all'attuazione degli interventi. L'avvio di questo percorso e la stipula della relativa convenzione con il Comune garantisce agli operatori la tutela dei diritti edificatori che a partire da quel momento possono essere considerati salvaguardati. Sono impreviste inoltre la nomina di un commissario nel caso il Comune tardasse nel disbrigo delle pratiche burocratiche e la possibilità di pagare a rate addirittura i contributi dovuti. Quindi si passa, come si diceva in Commissione, dalla svendita del territorio alla svendita a rate del territorio. Noi stiamo incentivando la svendita del nostro territorio. E poi c'è la completa assenza di efficaci interventi per favorire la rigenerazione urbana che era un altro tema importantissimo che ci è stato detto in tutte le salse, ce l'hanno ripetuto tutte le persone che sono venute a fare l'audizione e che è un tema importantissimo nel dibattito pubblico che si è sviluppato in questi anni. Le misure previste dalla legge per sostenere il recupero degli spazi già edificati e in particolare delle numerose aree di smesse presenti nei Comuni di Lombardi risultano poco credibili. Da un lato non si comprende quale possa essere l'entità complessiva dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione per i Comuni promotori di azioni concrete. Sostanzialmente anche questo quindi è un punto di estrema critica che noi portiamo all'attenzione del Consiglio. Anch'io voglio citare velocemente alcuni dei soggetti che sono stati auditi in Commissione anche seppure in gran fretta sono riusciti in qualche modo ad analizzare il testo. La tempistica prevista per l'attuazione degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo è troppo dilatata in quanto il meccanismo a cascata PTR e PTCP, la salvezza dei documenti di piano quinquennale di fatto differisce di almeno un settegno ogni regolazione generale del problema WWF Italia. Non troviamo alcuno strumento o leva disincentivante che risulti utile e coerente con la finalità di ridurre o limitare il consumo di suolo mentre appare chiarissimo sia l'intento che l'intento sia quello di accelerare e favorire anche con incentivi l'attuazione delle previsioni dei piani comunali che già molti documenti ad analisi sviluppate a supporto dei lavori della Commissione hanno evidenziato come abnormi e ingiustificate. Salviamo il paesaggio. Auspicheremo di vedere scritto in maniera inequivocabile che dall'entrata in vigore della presente legge non si consumerà altro suolo e che quindi tutti gli strumenti urbanistici vigenti avranno un tempo ben preciso per adeguarvisi col diretti. Senza intervenire sulle previsioni di piano contenute nei piani vigenti si rischia di vanificare gli obiettivi della stessa legge. I piani vigenti infatti comprendono previsioni troppo spesso eccessive ed inoltre questa misura potrebbe avere l'effetto di una corsa alla richiesta di titoli abitativi entro il tempo dato. Fondo Ambiente Italiano. Questa legge nella formulazione che ci è stata sottoposta rappresenta un inaccettabile inchino alla speculazione immobiliare e alle sue ultime lobby. Un ritorno al passato e un amaro calice da cui in una regione entro cui operano imprese dinamiche capaci di innovazione possiamo e dobbiamo evitare di bere preservando la nostra salute. Lega Ambiente. Affrontare il consumo di suolo è una questione seria e urgente. Questa legge al di là delle dichiarazioni retoriche rischia di essere sostanzialmente inutile e di avere effetti distorsivi ed incentivanti sui processi urbanizzativi. La strada non può essere quella di emendare marginalmente alcuni articoli ma è quella di riconsiderarla in profondità eliminando dispositivi contraddittori più sopravvidenziati. Istituto Nazionale di Urbanistica. Quindi tutti i soggetti sostanzialmente hanno mosso critiche più o meno dure a questo progetto. Noi avevamo avuto anche un atteggiamento propositivo. Noi abbiamo presentato un nostro progetto di legge. Ci siamo detti disponibili a ragionare su un testo comune. Siamo partiti con le migliori intenzioni salvo poi prendere atto di quello che è successo di cui ho parlato prima. Ma la nostra proposta di legge rimane come una testimonianza importante credo della volontà di andare contro il consumo del suolo. Innanzitutto noi ci eravamo concentrati sulle definizioni. Sul fatto che il suolo dovesse essere per legge definito bene comune, il cui utilizzo deve avvenire nel rispetto dell'interesse collettivo. Noi riconoscevamo il suolo come una risorsa limitata, essenzialmente non rinnovabile. E questo è un passaggio che non ritroviamo in nessun modo nel nuovo testo. Dopodiché noi prevedevamo un azzeramento del consumo di suolo oltre i confini della città costruita. Quindi secondo la nostra proposta gli interventi comportanti il nuovo consumo di suolo non sono ammessi al di fuori del perimetro del tessuto urbano consolidato, salve opere pubbliche. C'era un no preciso ad andare fuori dalle confini della città. Si poteva sì continuare a consumare all'interno della città ma con dei vincoli molto precisi. Entro la nostra definizione di consumo di suolo sono stati inclusi anche gli interventi di impermeabilizzazione e di edificazione relativi a spazi aperti e lotte libere interesclusi nel tessuto urbano consolidato. In considerazione di tale principio gli interventi comportanti il nuovo consumo di suolo dentro la città costruita sono soggettati all'esecuzione di misure di compensazione ecologico-ambientale e l'incremento di oneri di urbanizzazione. Quindi si andava a lavorare su quel meccanismo in base al quale oggi conviene di più consumare un suolo libero piuttosto che andare a rigenerare un suolo inutilizzato. E poi vincolavamo anche al principio in base al quale si andava a consumare suolo libero solo a fronte di una reale esigenza dimostrata da fabbisogni abitativi e da stime di incremento demografico e soprattutto dimostrata anche dall'assenza della possibilità di riutilizzare patrimonio già esistente. Questo era un vincolo molto importante e anche di questo non si trova sostanzialmente traccia efficace in questo progetto. E poi noi andavamo ovviamente anche a lavorare sul discorso del pianificato, cioè del previsto dei piani di governo del territorio. Noi andavamo a contrastarla in maniera forte. Ripeto, siamo in una situazione di gravità fortissima e a fronte di questa situazione di gravità occorreva anche una decisione radicale, una decisione radicale di stop alla pianificazione dei piani di governo del territorio. Rispetto a questo tema noi avevamo deciso che non si doveva più andare a validare tutte le previsioni edificatorie salvo ovviamente gli interventi già avviati e convenzionati. E poi ci concentravamo su tutto il tema della rigenerazione urbana e del recupero degli spazi aperti. Nella nostra proposta di legge sono previste alcune misure che hanno lo scopo di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio di rizzo esistente e di favorire la riqualificazione paesaggistica e funzionale degli spazi aperti per gli urbani. Le misure per il sostegno al recupero degli edifici esistenti riguardano soprattutto la drastica riduzione degli oneri di urbanizzazione. Noi li abbattevamo al 95% e tutta una serie di altre incentivazioni. Purtroppo di tutto questo non c'è traccia nel testo della maggioranza. Non si considerano i reali fabbisogni abitativi nel momento in cui si va a consumare suolo. Non ci sono compensazioni ambientali serie. Non ci sono meccanismi di disincentivo del consumo di suolo. Almeno nella prima versione del PDL 140 che non ci faceva impazzire però noi la consideravamo un inizio, una base su cui fare dei ragionamenti. C'era un tentativo di intervenire sulle previsioni. C'erano le compensazioni ambientali. C'era un sistema di definizione più chiaro e stringente rispetto a quello dell'attuale testo anche a partire dal concetto di soglia. Tutto questo però è sparito sacrificando il tutto a quella parte della maggioranza che evidentemente un progetto serio e stringente non lo ha voluto in nessun modo. Quindi stando così le cose il nostro non può essere che un atteggiamento di contrapposizione e di valutazione assolutamente negativa del progetto. Grazie.